Ciao a tutti ragazzi sono Norco Verde, in questo video volevo informarvi che la Rockstar ha rilasciato un nuovo evento su GTA Online per questa settimana. Questo evento terminerà il 5 aprile, in questo evento c'è lo sconto del 25% su uffici, cosa che vi consiglio di acquistare se non avete un ufficio, in quanto l'ufficio è molto utile soprattutto per poter eseguire le missioni uscite con il DLC Import Export, eseguire i carichi speciali, delle merci, poi le consegne delle auto, insomma tutte queste missioni che vi fanno guadagnare soldi su GTA 5 Online. Poi c'è lo sconto del 25% sui garage degli uffici e anche qui ragazzi vi consiglierei di acquistare a meno un livello di un garage per ufficio, così che se ci dovesse essere un money glitch per duplicare auto che si può fare solamente nel garage dell'ufficio, voi ce l'avrete e potrete eseguire il money glitch. Poi c'è lo sconto del 25% sulla Pegasi Tempesta, c'è lo sconto del 25% sulla Dubash Massacro, se vi recate in un Los Santos Custom oppure all'officina di Venice, ci sarà lo sconto del 25% sulle trasmissioni armature per veicoli e freni. Poi c'è lo sconto del 25% sulle pistole Ad Ammonation. Come bonus Rockstar ha impostato i soldi e gli arepi doppi in tutte le mappe della nuova modalità competizione Ressurrezione. Infine c'è la gara premium per veicoli speciali di isola in isola, questa gara premium è attiva dall'evento precedente della settimana scorsa, questa gara premium durerà fino al 3 aprile. Niente ragazzi, questi sono i bonus e gli sconti che la Rockstar ha rilasciato nell'evento di questa settimana. Se non sapete come funziona, come giocare alla modalità competizione Ressurrezione, ho fatto un video dove ho spiegato come funziona questa attività. Se non l'avete visto vi invito a guardarlo, link nella descrizione sotto questo video. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete i video e da Orc over tutto noi ci vediamo al prossimo video. Bella!